1.850 euro, la somma raccolta dal progetto civico Fatto un Sogno, serviranno ad installare una nuova ringhiera nella villetta Mura di Vega. Raggiunto l'obiettivo della raccolta fondi organizzata il 31 marzo e il 21 aprile scorsi, due giornate rivolte ad adulti ma soprattutto ai bambini, in cui hanno potuto esprimersi e divertirsi attraverso giochi, pitture, letture e tante altre iniziative e allo stesso tempo far rivivere un luogo ultimamente abbandonato. Il comitato civico di Fatto un Sogno aveva infatti deciso di contribuire ad una maggiore valorizzazione della villetta Mura di Vega, partendo dalla ringhiera fatiscente e pericolante, che adesso con i quasi 2.000 euro raccolti verrà sostituita, dando dignità ad uno dei panorami dall'alto più belli di Sciacca, alla luce anche dei tanti turisti che visitano la parte più antica della città, quale il quartiere di San Michele e le sue vecchie mura. Non possiamo che rallegrarci per l'affetto e la generosità dimostrata da bambini, mamme, papà, amici e commercianti, commenta oggi il comitato civico, ringraziando ancora una volta quanti hanno contribuito all'organizzazione di due giornate di laboratori per bambini, tra privati, insegnanti, scout ed associazioni. Dopo quello realizzato alla villa comunale Niaccio Scaturro, che ha permesso all'impianto di irrigazione dalla pompa del laghetto delle Oche di tornare in funzione, un altro sogno, quello di sostituire la ringhietta alla villetta di San Michele, sta per avverarsi, grazie alla forza di volontà di alcuni saccensi, al loro senso civico ed alla loro voglia di riportare ai lustri di un tempo luoghi oggi dimenticati.